In questo mi rimetto, in casa mia qualche si vuol si fa, e lascio a Ciaschidù la libertà. Ma signor favorite, voi non mi conoscete? Eh sì, signore, voi siete il conte Nastri, un cavalier romano che a Napoli se invien per su di Portol con la contessa sposa. L'amico mi ha informato don di cosa, oh gran falco bricone, discorreremo poi sulla far del tesoro. Che tesoro? Io non so di tesori, io non cavo tesori, e chi va detto che si cavano tesori in casa mia? Quel che mi manda davo signoria, non è vero, non è vero, il replico di no. E all'amico di Roma lo scriverò, se si sa del tesoro sarà la mia rovina, lontani lì terrò dalla campina. Dunque voi non volete che vi aiuti a cavar? Sì, meraviglia, ti dacervi consigli un dal proposito, o mi vedrete far qualche sproposito.